amici di moto.it ciao a tutti dalla sicilia con angelo crippa eccolo salve buongiorno a tutti angelo adesso mi riprendo la gopro facciamo passare questa moto 1290 perché adesso vado a parlarvi proprio della nuova eccomi inquadrato lo stabilizzatore fa un po quello che vuole la tecnologia non è non è il tuo pane lo sappiamo ne lo sappiamo infatti già a prendere lo stabilizzatore ci ha messo un po di tempo eccola qua adesso vi parlo in questa prova della ktm super adventure 1290 s la nuova miraglia di matti goffin da strada max enduro stradale quindi non la r con ventura anteriore che prende il posto della 1190 cambia totalmente il frontale lo vediamo subito col nuovo parabrezza più grande e soprattutto col faro vediamo l'anima centrale in alluminio e la cornice led e poi soprattutto il corner in light centrale con queste luci che si accendono a seconda dell'angolo di piega della moto proseguono la vista per farvi vedere i nuovi convogliatori laterali che hanno un nuovo flusso dell'area che serve a migliorare la stabilità della moto perché la ktm ha lavorato tantissimo per migliorare questo aspetto che era stato lamentato da diversi clienti parliamo della stabilità però ad altissima velocità con le borse quindi ben oltre i limiti legali in italia cosa è stato fatto abbiamo innanzitutto dei cerchi a razze al posto dei cerchi a raggi nuovo cuscinetto di sterzo e poi per finire le borse basculanti che sono di sede sulla s e sulla t e sono optional invece sugli altri modelli e anche sui modelli precedenti ma non è l'unico lavoro ho dimenticato una cosa fondamentale ktm ha anche cambiato le gomme di primo equipaggiamento che si rally scorpion trail 2 che vanno veramente bene poi ve lo racconterò direttamente dalla sella di questa moto a proposito di sella abbiamo sempre la sella regolabile su due su due livelli 850 870 millimetri ma quello che fa impressione di questa moto è il pacchetto elettronico partiamo dalla strumentazione tft da 6,5 pollici realizzata dalla bosch è molto bella perché cambia a seconda della luce ma anche a seconda della velocità alle alte velocità il tachimetro diventa la parte principale eccola qui poi abbiamo sospensioni semiattive vp che possono essere regolate dal blocchetto di sinistra su vari settaggi sport street o rain ma non è l'unica cosa che si può fare perché ve lo mostro direttamente con questo tasto si entra anche nei ride mode adesso forse al motore spento no lo fa anche al motore spento vedete sport street e rain ma c'è anche off road scendendo a livello poi elettronico troviamo optional su questa moto il cambio ad assistenza elettronica a salire e a scendere di marcia che funziona molto bene ed è optional ma lo consiglio a tutti quelli che compreranno la nuova miraglia di ktm che costa 16 mila e 750 euro basta chiacchiere e andiamo a provarla direttamente dalla sella così poi voi commentate qua sotto ciao arno ciao andrea allora ci stai divertendo divertendo la moto è molto bella meno male ma l'avevo già provata però secondo me per te questa è troppo potente ciao amici di moto.it iniziamo il nostro test in sella a una delle moto più attese nei commenti veramente vi avete stupito e vi ringrazio ancora per la partecipazione alle domande passiamo a lei è la ktm super adventure 1290 s che prende il posto della 1190 e ha dei contenuti tecnologici veramente elevati perché la moto che sto guidando ha le sospensioni semiattive il faro l'avete già visto il faro led ma adesso vi parlo delle caratteristiche di guida sto seguendo il campionissimo del super mare cross tanti magari sopra i 40 anni se lo ricordano vincenzo lombardo è la nostra guida qua sull'etna ed è un produttore pirelli perché è la 1290 s adesso è dotata delle pirelli scorpion 3 2 che a mio giudizio sono adesso il punto di riferimento per quanto riguarda le gomme dedicate alle max enduro inizio a raccontarvi dalla posizione di guida che è molto comoda è cambiato il parabrezza che nella posizione bassa protegge discretamente ma col casco da cross adesso fa passare tanta aria ma basta regolarlo altro vedete che questo fomello si regola anche a mano in un attimo sono protetto molto bene ho le manopole riscaldate che funzionano bene la nuova strumentazione tft della bosch che è spettacolare ha una reggibilità ottima al crescere della velocità i numeri del tachimetro diventano più grandi e contragiri più piccolo questo per indicarci sempre la velocità il motore passiamo al 1290 perché mi avete chiesto in tanti qua ci sono i fotografi della ktm in tanti mi avete chiesto la trattabilità le domande su youtube e su moto.it vi dico subito che questo motore scende in sesta fino a 2200 giri considerate che la sesta è molto molto lunga ma con la terza e la quarta marcia per farvi un esempio ho visto che si può scendere fino a 1800 giri è un motore molto trattabile vi ricordo che ha quattro mappe con la rain e offroad abbiamo 100 cavalli con street e sport arriviamo a 160 cavalli a 8.700 giri è un motore molto potente adesso stiamo guidando in maniera fluida in discesa alla prima occasione vi faccio sentire la spinta in street poi optional e lo consiglio a chi comprerà questa moto abbiamo il cambio elettronico quick shift che funziona benissimo sia a salire che a scendere di marcia è un cambio perfetto e già il cambio di questa moto comunque funziona bene adesso scalo guardate la marcia qua indicata a destra terza seconda vedete appoggio il piede e la cambiata immediata adesso in uscita di curva seguite la marcia seconda terza quarta è un cambio veramente efficace passo all'altra cosa che mi avete chiesto il calore della moto allora oggi qua sull'Etna ci sono 10 gradi calore non se ne sente ovviamente perchè la temperatura è bassa e anzi ne vorrei un po' di più perchè con i pantroni da cross fa abbastanza freddo c'è da dire che il serbatoio protegge molto bene altra cosa che mi avete chiesto la stabilità alle alte velocità su queste strade abbiamo anche fatto dei percorsi in super strada più veloci fino a 130 orari la stabilità non ha dato problemi perché appartiene ha lavorato tantissimo su questo aspetto con i nuovi pneumatici i nuovi cuscinetti di sterzo nel canotto di sterzo per risolvere il problema qua attenzione alla sabbia e poi ha lavorato anche sui cerchi non abbiamo più i cerchi a raggi sulla 1290s ma abbiamo i cerchi a razze qui c'è stato un lavoro poi anche a livello aerodinamico sui convogliatori insomma c'è stato tanto lavoro per risolvere questo problema e per finire vi ricordo anche che adesso la 1290s insieme a la T montano le valigie basculanti è un sistema fatto apposta per migliorare la stabilità alle alte velocità protagonista di questa moto è sempre il motore che adesso arriva a 160 cavalli come vi dicevo 10 in più rispetto alla 1190 con un efficientissimo controllo di trazione che sfrutta la piattaforma inerziale quindi riesce a riconoscere l'angolo di piega della moto e mette a terra i cavalli che servono quindi non è per niente invasivo vedete apro anche in piega la moto è veramente efficace oltre al motore che ha un'erogazione come vi ho anticipato ottima da 2000 giri in sesta l'altro aspetto l'altro aspetto veramente libidinoso di questa moto sono le sospensioni semiattive della WP che leggono veramente la differente impostazione che facciamo con questo tasto guardate qua in riding mode torno sul menu principale dumping adesso sono su sport ma posso passare a street velocemente e cambia subito la risposta diventa più morbida quindi c'è un comportamento molto efficace oggi ho cercato tutte le buche di catania per vedere come andavano le sospensioni e sono assolutamente performanti adesso rispondo a qualche amico che mi ha chiesto la differenza di comportamento tra queste semiattive e quelle attive della BMW GS che ho appena provato su strada perché la GS Rally qua l'ho provata per lo più in fuoristrada su strada si comportano tutte molto bene però devo riconoscere un certo vantaggio da parte della KTM con il suo sistema semiattivo a livello di affondamento e di capacità di ammortizzare le buche secche invece a livello poi di adattabilità agli stili di guida sono entrambe sia BMW che KTM molto efficaci in fuoristrada invece la KTM non l'ho provata perché oggi le condizioni meteo ha piovuto tantissimo qua in Sicilia non ci hanno consentito di andare a fare il tratto di fuoristrada però per questo vi ricordo e rispondo un'altra domanda che le versioni R col cerchio da 21 pollici sia 1090 che 1290 verranno provate da moto.it molto presto andremo infatti a inizio marzo in Perù per fare un testo approfondito con tanta tanta guida sugli sterrati anche più impegnativi la risposta del motore è veramente imperiosa ha una spinta fantastica sentite che progressione ha adesso sono in terza ma metto anche col cambio elettronico guardate quinta sesta sono a 66 all'ora a 2000 giri guardate in terza 39 all'ora 2400 giri guardate che ripresa fantastica queste gomme Firelli danno tanta gita ma sono anche perfette per domare la potenza esagerata della nuova KTM guardate anche nei tornanti in discesa ha una guida molto facile adesso le borse montate vedete è immediata facile nella conduzione a chi mi chiede il test del corning abs vi ricordo che il corning abs interviene in situazioni di emergenza quindi i frenati al limite che si possono simulare soltanto in pista non posso simulare una frenata d'emergenza molto piegata su strada perché non sarebbe certo un comportamento sicuro la sella della 1290s è molto comoda anche sulle lunghe distanze e può essere regolata su due posizioni a 870 oppure 850 mm quindi si adatta anche ai piloti più alti vi mostro la temperatura 11 gradi questo numero non mi permette di darvi un giudizio concreto sul calore del motore sulle gambe e sul sedere del pilota del passeggero posso soltanto dirvi che a catania ho trovato tanto traffico questa mattina e anche dopo diversi minuti in cosa perché con le borse non potevo svicolare tra le macchie ho sentito appena un po di calore sulla gamba destra quindi mi sembra che il lavoro fatto dai tecnici con la paratessa sotto la sella e i nuovi compogliatori e flussi dell'aria qui sui bianchetti svolgono bene il loro lavoro però per dire l'ultima parola ci riserviamo di provarla a luglio sul fronte stabilità con le borse fino a 140 all'ora oggi la moto è andata tritta come un fuso e con questo cambio marcia vi saluto e vi invito a commentare la prova sempre su moto.it sul nostro canale youtube ma non solo vi invito anche a visitare la bellissima sicilia perché le strade intorno all'etna sono fantastiche